eccoci qua buongiorno santi buonasera lucio siamo bene siamo bene dai una giornata un pochino faticosa di lavoro però sono rientrato a casa un po di rilassamento un po di relax se ti vuole anche perché vado anche a scambiare i quattro chiacchiere per me fa bene e allora che giorno è oggi oggi 8 agosto 2023 sono le 18 08 e questa è la diretta numero 948 dall'inizio è la 218 del 2023 quanti 8 oggi e come ci siamo conosciuti ci siamo conosciuti tramite un amico in comune salvo d'angelo il mio regista esatto e poi tu sei stato spessissimo presente nelle dirette e quando mi ha detto salvo fa guarda che c'è santi che potrebbe fare la diretta detto bene bene allora intanto ti salutano giuseppina malfa ti saluta picchio tenace rock da modena che ha condiviso la diretta su radio stay rock di roma ti saluta angelo la fanno da salerno e ti saluta geogra film production e ti saluta aspetta salvo d'angelo e ti saluta adesso li dico tutti in una volta è valli ciobano mia moglie grazie a tutti